Punteggio tennistico per la capolista del Girone A del torneo di eccellenza sul fanalino di coda Libertas. 6-0 il risultato finale che proietta il Gela, più 5 punti dalla San Cataldese, 6 sul Dattilo Noir. Una gara senza storia, quella andata in scena ieri pomeriggio sul sintetico dello Stadio Presti. Agrigentini praticamente con la testa già in promozione, senza più nulla da dire a questo campionato. Per il Gela una giornata di festa non solo per la roboante vittoria agguantata davanti al pubblico di casa, ma anche per la gioia di aver messo in cascina punti pesanti sulle dirette inseguitrici. La prima di due impegni consecutivi al Presti, vinti in maniera prepotente con i Biancazzurri, che adesso cercheranno il bis domenica prossima sempre in casa, contro l'atletico Campofranco. Insomma, Bonafini e compagni assaporano la SD, ma guai a farglielo notare. Con 5 gare alla fine del torneo, ancora i giochi non sono fatti, ma l'acqualina in bocca sembra già esserci. Nella gara vista ieri pomeriggio c'è stata in sostanza una sola squadra in campo. Gli ospiti in pratica non hanno mai impenserito l'undici Biancazzurro con il portiere Pandolfo uscito anzitempo dal campo per dare spazio al secondo portiere Donato Camiolo, anche egli inoperoso. Già dopo quattro giri di orologio, padrone di casa pericolosi con il giovane Tony Scerra, che tutto solo davanti al portiere sbaglia calciando sull'estremo difensore Agrigentino. Il gol è nell'aria e arriva al minuto undicesimo grazie alla bella rovesciata in aria di Nassi che la mette dentro sbloccando in acrobazia il risultato. Si gioca in pratica ad una porta con gli ospiti incapaci di reagire. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa grazie alla zampata vincente di Mincica. La ripresa si apre subito con la rete del 3-0 firmata da Scerra. La quarta marcatura arriva dopo cinque minuti con il difensore e goleador Fabio Campanaro. Gela che non appare esazio e cerca sempre la via del gol. La quinta rete arriva ancora una volta con Nassi che raccoglie l'invito di uno strabitoso Mincica che lascia sul posto un paio di avversari servendo poi la palla del 5-0 al compagno di squadra. Con gli ospiti oramai alle corde e con la bandiera bianca alzata arriva anche la rete del definitivo 6-0 dei padroni di casa. A metterla dentro e ancora una volta l'undersherra bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. Insomma un Gela che dopo la bella vittoria in casa del Mazzara mette in cacina altri tre punti preziosi per la vittoria finale del campionato. Adesso come già detto i biancazzurri saranno chiamati ad un altro impegno casalingo contro l'atletico Campofranco galvanizzato dalla bella vittoria in casa contro il Mazzara. Una gara sicuramente più impegnativa per la squadra del tecnico Totò Bruculeri.